La protagonista di questa puntata di Beautiful Minds è alla guida di un gruppo che conta più di 400 persone. Prima e unica donna eletta alla vicepresidenza di Confindustria Romagna, ma è anche mamma di due figli e moglie. Quindi do il benvenuto qui nella saletta digitale di Zani Work ad Alessia Valducci, presidente del gruppo Valpharma Holding, che opera in tutto il mondo in ambito farmaceutico, nutraceutico e fitoterapico. Benvenuta Alessia. Grazie mille per l'invito, grazie Cristina. Allora Alessia, parto con la prima domanda, rifacendomi all'organizzazione di un convegno che c'è stato tempo fa e che si intitolava Imprenditrice, scelta o destino? Perché nel tuo caso ci sta questa domanda. Può essere un destino scelto, nel senso che sono entrata in azienda giovane, appena laureata ed è stato un cammino di innamoramento e diventare imprenditrice piano piano. Sono stata 25 anni, tanto tempo a fianco di mio papà, ho imparato tante cose, ho imparato a vivere, ho imparato a lavorare e ovviamente non è stato un cammino facile perché lavorare con il padre, sempre a contatto. All'inizio è stato entusiasmante perché ero innamorato di lui, come tutte le figlie, e quindi tutto quello che faceva era bellissimo ed è bellissimo perché è stato un imprenditore illuminato, geniale per certi versi, che ha portato il farmaceutico in Romagna quando non c'era, non c'era nessuna idea di farmaceutico e anche di nutraceutico poi nell'ultimo periodo della sua vita. Poi è cresciuta la consapevolezza, la conoscenza del settore, del lavoro e quindi sono iniziati un po' gli scontri. Quindi un po' di lotte, un po' di tanta, tanta, tanta fatica, però un cammino in salita che poi mi ha portato a prendere proprio in mano l'azienda, ad avere il coraggio, un coraggio imprenditoriale pieno di responsabilità per portare avanti un'azienda che era parte di me, quindi è stato proprio un destino che però ho voluto scegliere. Che volevi assolutamente fare perché leggo poi che comunque tu hai lavorato anche nel settore del turismo, nel corso degli anni sei stata direttrice anche del Palace Hotel di San Marino e hai fatto un'agenzia viaggi, quindi anche altre attività. Questi erano più degli hobby per te, non era la tua vera passione, insomma, questo del mondo dei viaggi? No, beh, il viaggio mi è sempre piaciuto, no? La vita è un viaggio, poi mi piace tantissimo viaggiare, sono curiosa, mi piace conoscere altre realtà, con mio papà ho fatto dei viaggi meravigliosi, insieme a mia mamma siamo andati in giro per il mondo, siamo andati in Australia, in Giappone, quindi abbiamo visto veramente tante cose, io adesso sto continuando a girare, a viaggiare con mio marito e con i miei figli, perché mi piace, quindi lavorare anche nel mondo dei viaggi mi è piaciuto. Poi mio papà era appunto geniale, ha fatto tante tante cose, tra cui ha aperto anche due alberghi e quindi mi sono ritrovata, anche lì per scelta e per destino, fare la direttrice d'albergo. Adesso abbiamo un progetto, quindi l'albergo di San Marino in questo momento si sta chiudendo, ma stiamo allargando tantissimo la realtà farmaceutica, quindi Valpharma avrà una grandissima estensione in quello che era il Palace Hotel. Invece l'albergo di Pennabilli che si chiama Duca, ha preso invece una via più sociale, abbiamo aperto, stiamo aprendo proprio in questi giorni una cooperativa sociale che aiuterà i ragazzi per il rinserimento nel lavoro, adesso che sono in una situazione di messa in prova dopo periodi difficili della loro vita, quindi uniamo un po' le attività col sociale. Ecco, infatti parlando proprio di Valpharma, è questa holding di tre realtà, perché c'è Valpharma Spa, Valpharma International e poi nel 2017 avete acquisito anche il gruppo Erbavita, conosciamo il brand perché viene distribuito poi i prodotti con il marchio Erbavita nelle farmacie, parafarmacie, quindi insomma siete una realtà che leggevo dal vostro sito, avete due stabilimenti, uno di 6.000 metri quadri e l'altro di 45.000 metri quadri, quindi un impero veramente. Ecco, nello specifico che cosa fate? Perché abbiamo parlato di nutraceutica, nutraceutico fitoterapico, insomma per chi non è addetto ai lavori sono anche dei termini che non sono così comprensibili. Sì, il gruppo Valpharma è un gruppo farmaceutico prevalentemente e ha due sedi farmaceutiche, produciamo prodotti in ritardo, in capsule e compresse, quindi solidi, forme solide e siamo terzisti, non andiamo sul mercato con il nostro marchio, ma lavoriamo con multinazionali, siamo prevalentemente internazionali, i nostri mercati di riferimento sono il Brasile e il Giappone, quindi gli antipoti. Sì, è incredibile. Poi, e questa è una realtà che mio papà ha fondato nel 1977, quindi abbiamo 45 anni di storia, quindi proprio veramente stiamo crescendo radicati nel territorio e con tante persone che lavorano con noi da tanto tempo. Ovviamente adesso c'è un po' di ricambio generazionale perché vanno giustamente in pensione che hanno raggiunto l'età. Poi nel 2016 mio papà si è innamorato di Erba Vita ed è stata una lotta che abbiamo fatto uno contro l'altro perché mio papà diceva bisogna comprare assolutamente Erba Vita, io dicevo ma sono figlia unica, ci sono solo io, non riesco a gestire tante realtà, invece come tante cose che ha fatto, aveva ragione e adesso, dal 2017 l'abbiamo presa poi proprio totalmente noi perché nel 2016 c'era un socio, dal 2017 fa parte del gruppo e quindi abbiamo allargato il nostro panorama ed è questo molto bello perché abbiamo allargato anche le nostre menti anche nel Nutraceutico che è un mercato molto forte che sta crescendo tantissimo e il commerciale perché Erba Vita va sul mercato direttamente col proprio marchio. Poi stiamo facendo un'unione sempre più forte perché stiamo unendo il farmaceutico con il Nutraceutico quindi molti prodotti fatti, cioè li stiamo facendo con una mentalità farmaceutica, prodotti Nutraceutici con mentalità farmaceutica mettendoci dentro il nostro plus che è il retard, quindi sono ad esempio facciamo la vitamina C a rilascio controllato che si rilascia, che dura 12 ore nel nostro organismo, quindi anche il Nutraceutico si sta avvicinando tanto più alla nostra produzione quotidiana. Bello, interessante. Ti chiedo però, visto che hai parlato del passaggio generazionale, ecco ho letto che in Italia l'85% delle imprese sono di tipo familiare ma solo il 30% di queste sopravvive con la seconda generazione, ecco una di queste sei tu perché l'hai appena spiegato, ecco come hai fatto, visto la mente anche la visione di tuo padre che mi sembra ragionasse veramente molto in grande, come hai fatto a tutelare questa continuità aziendale anche quale strategie insomma avete utilizzato perché non è facile subentrare in realtà così importanti. No, non è facile, il passaggio generazionale è il momento più difficile per un'azienda, che un'azienda possa vivere perché si vive in azienda, si vive il sogno dell'imprenditore, specialmente per imprenditori così visionari come mio padre nel 77, da zero, da tre persone, sono arrivato a un gruppo così grande, quindi le persone che entravano vivevano proprio il sogno, vivevano con lui ogni giorno il suo desiderio di crescere ed insieme crescevano, quindi era ancora adesso, mi dicono Valducci faceva così, facciamo così, certo lo facciamo e dopo lì scatta, e anche per me, io ho vissuto con lui i 25 anni di sogno, di sogno, adesso è un sogno che continua, continua nella mia figura, io l'ho vissuto con lui, quindi è un sogno che perpetua, io adesso vivo nel suo ufficio, cioè ho ereditato anche il suo ufficio, quindi vivo anche, respiro quello che viveva lui, ed è una cosa bellissima per una figlia, almeno per me è molto bello, però non è, cioè i suoi sogni in parte si sono realizzati, quasi tutti, perché è stato bravissimo e noi siamo bravi a portarle avanti, adesso ci sono dei sogni, i sogni continuano, no? Ma tu sei aiutata da dei manager, come fai a gestire? Noi abbiamo, dal 2016, quando ho preso in mano l'azienda, abbiamo cambiato la, proprio c'è stato un cambiamento oltre generazionale, ma anche, non è più un'azienda, è familiare, però abbiamo dei manager e stiamo cercando di formare sempre più le persone che lavorano con noi per diventare manager, per essere sempre più coraggiosi, con sempre più voglia di fare, ovviamente con un obiettivo finale sempre più alto e sempre rivolto verso la crescita. Sono passaggi non facili, io già sto pensando a quello dei miei figli, perché, ripeto, non è facile. Saranno la terza generazione che mi sono destinati, ma spero, spero, spero. Anche per loro sarà un destino scelto, perché vediamo quello che vorranno fare, con quanta forza, perché ci vuole tanta forza per volerlo fare, con quanta dosi di coraggio ci metteranno, quanta dosi di responsabilità, perché bisogna, noi facciamo farlo, ci vuole la ricetta proprio giusta per essere nella condizione giusta per fare bene il proprio lavoro, questa è la cosa. Senti, quante ore al giorno lavori tu? Io non smetto mai. Perché ti volevo fare la domanda sulla conciliazione, visto che si parla tanto di conciliazione, ho detto che tu hai anche due figli, poi sei amante dei viaggi, quindi come fai a conciliare tutto? Sì, poi ho tante attività. E hai tanti incarichi, perché ho letto nel curriculum, dal Lions, insomma. No, questo perché mi diverto, cioè io da mio papà ho imparato a fare le cose divertendomi e quindi tutto quello che faccio ci metto una buona dosi di passione. Ho deciso nella mia vita che se una cosa non mi piace, non mi diverto, o trovo qualcosa che non va, non fa parte del mio DNA. Purtroppo mi piace tutto, cioè tutto quello che faccio mi... Beh, già questo è bello perché lo fai senza sacrifici. No, è brava, non è un sacrificio, non è un sacrificio. Allora, la missione di crescere i miei figli mi ha ovviamente allontanata da tante cose, perché mi sono per anni, mi sono dedicata giustamente a loro, però sono riuscita, insomma, adesso, perché adesso hanno quasi 21 e 18, uno all'università, l'altro ci andrà l'anno prossimo, e lì dopo avrò il nido vuoto e vedremo cosa succede. Però a creare anche in loro tanti interessi, tante curiosità, perché così si va avanti. E sei anche presidente di una società sportiva, la New Rimini Baseball and Softball, quindi sei un'appassionata di softball, di questo sport. Sì, sì. Il baseball è per i ragazzi... O ti hanno chiesto di sponsorizzarla. Allora, lì è stata, anche lì, una passione, che questa però l'ho ereditata dai miei figli, perché quando erano piccoli giocavano, e quindi sono entrata piano piano in quel mondo. Mio figlio grande continua a giocare, continua a metterci tanta passione e tanto entusiasmo, quindi sono diventata un po' la mamma di tutti i ragazzini che giocavano lì. Poi quando Rimini Baseball è riuscito ad andare in Serie A, e quindi abbiamo fondato questa società che si chiama New Rimini Baseball, e mi hanno chiesto di diventare presidente per accompagnare in questa esperienza di Serie A. Siamo stati in Serie A due anni, l'anno scorso non ce l'abbiamo fatta, siamo tornati in Serie B, quindi adesso ad aprile inizia il campionato in cui saremo in Serie B, però cercheremo di andare in Serie A. E' un cammino anche quello, è un altro impegno. Allora, ho letto anche che tu hai sempre fatto della valorizzazione delle donne uno dei tuoi punti di forza, e tra l'altro sei una delle, l'abbiamo detto nella tua presentazione, sei l'unica donna all'interno dei vertici di Confindustria, sei vicepresidente di Confindustria, quindi già questa è una soddisfazione. Sì, sono molto onorata. Però siamo ancora troppo poche, cioè una donna in mezzo a così tanti uomini, nonostante insomma le quote rosa c'è ancora molto da fare, cosa dici? Eh sì, sicuramente, anche lì bisogna metterci un passettino dietro l'altro, con tanto coraggio, con tanta determinazione. C'è questo gap che si parla di 132 anni, che è un'enormità per raggiungere lo stesso livello professionale, professionale no, perché abbiamo più ingegneri e più medici donne, nel futuro avremo sicuramente nel giro di qualche anno più figure professionali femminili forti, però c'è questi 132 anni che sono un'enormità, no? Quindi attraverso, io spero, il nostro esempio, il nostro mettersi in gioco, di incoraggiare tante donne a prendere più fiducia in se stesse, ad avere veramente più determinazione, ad accettare anche ruoli, perché bisogna proprio avere, ripeto, il coraggio ad accettare i certi ruoli. Io vedo in azienda che certe donne dicono no, io preferisco di no. Ecco, mettiamoci un attimino di slancio, perché siamo forti, cioè inutile. Anche ieri parlavo con un manager che ci è venuto a trovare, ha detto, io nelle donne vedo maggiore determinazione, ho sempre incoraggiato la crescita e ci proviamo, ci proviamo nella mia azienda, ma anche fuori con Confindustria, quindi infatti ci lavoreremo proprio perché ci siamo incontrati tra noi donne imprenditrici, ed è una cosa bellissima, perché l'incontro, no? Si trovano tanti stimoli in più. Per me Confindustria è stata una scuola grandissima, no? Come giovane imprenditrice andavo a Roma, vedevo Emma Mercegaglia, che aveva degli incarichi alti, e dicevo se c'è lei ci posso andare anch'io. Io spero che, ripeto, nel mio piccolo possa essere di esempio per altre persone, per altre ragazze. Sicuramente, sicuramente. Grazie Alessia di essere stata con noi. Grazie, grazie Cristina.